Bene, a proposito della follia di Orlando, vi dicevo, Orlando è presentato in questo poema in modo completamente nuovo e diverso rispetto alla figura tradizionale dell'eroe, assolutamente perfetto nelle chanson del gesto. E Ariosto lo dice nel famosissimo proemio che abbiamo visto insieme, scrive nell'ottava 2 di Rode Orlando in un medesmo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto, d'uomo che si saggio era stimato prima. Ecco, quindi presenta il tema della follia di Orlando, tra le altre tematiche che presenta nell'incipit, e dice, parlerò di Orlando dicendo contemporaneamente una cosa che non è mai stata detta prima né in prosa né in versi. Dirò che è impazzito, è proprio diventato furioso per amore, è da lui che prima era considerato un uomo tanto saggio. E saltiamo ora al passo in cui l'autore ci presenta, ci racconta di quando Orlando effettivamente impazzisce al canto 33, ottava, 134, la follia di Orlando. In tanta rabbia, in tanto furor venne, che rimase offuscato in ogni senso, di tor la spada in manna non gli sovvenne, che fatte avria mirabil cose, penso, ma né quella, né scure, né bipenne era bisogno al suo vicore immenso. Quivi febbende le sue prove eccelse, che un altopino al primo crollo svelse. Ecco qua, è il momento in cui Orlando, dopo aver tanto meditato, tanto cercato di non credere che fosse vero l'amore di Angelica e Medoro, tanto cercato di autoingannarsi, alla fine deve prendere coscienza della verità di questa, che per lui è una tragedia. E quindi si leva dal letto, tra l'altro si era reso conto di stare riposando nello stesso letto, perché l'aveva ospitato lo stesso pastore, che aveva ospitato Angelica e Medoro. Quindi si rende conto di trovarsi nello stesso letto dove Angelica e Medoro dovevano essersi amati e quindi esce furioso di colpo nel bosco e si spoglia. E entrò in lui tanta rabbia, entrarono tanto furore che perse i sensi, perse il senno in sostanza. Non si ricordò neppure di prendere la spada in mano, perché penso che avrebbe fatto cose assolutamente degne di essere ammirate, anche nel male. Ma non c'era bisogno né di quella, né di una scura, né di un'ascia bipenne, perché aveva una forza immensa, vedete con la follia gli cresce anche l'energia e la forza. E qui, in questo luogo, diede prova della sua forza, diede grandi prove della sua abilità, che a mani nude così, dopo appena una sola prima scrollata, svelse, cioè sradicò un altissimo albero, un alto pino. Quindi qua già vedo l'idea, l'abbiamo poi visto insieme, di quello che è la follia e la forza distruttiva di Orlando. E qua l'ultima immagine, l'abbiamo già vista, non so se Gustavo Doré in questa incisione avesse voluto realmente rappresentare l'episodio di Astolfo sulla Luna, comunque mi sembrava significativa e non ho cercato ulteriori immagini per rappresentare questo ultimo episodio che abbiamo visto, di Astolfo che va sulla Luna a recuperare il senno di Orlando. E' come se Orlando dopo un po' avesse espiato con questo suo comportamento folle che lo mette in ridicolo, lo fa vergognare poi di fronte a tutti, avesse espiato la sua colpa che è quella di essersi dimenticato della fede e della sua missione per correre dietro a una donna, quindi per causa della forte passione d'amore e la sua punizione appunto la follia, ma l'esercito ha bisogno di lui, il mondo ha bisogno di lui che ritorni in sé e quindi niente meno che l'arcangelo Gabriele poi come guida Astolfo avrà sulla Luna Giovanni Battista, quindi vedete che elementi cristiani, santi, miracoli si fondono ad elementi pagani, leggende e anche aspetti del fantastico e della magia nell'opera e quindi vi dicevo Astolfo, come sapete, recupera l'ampolla con il senno di Orlando e Orlando tornerà saggio. Vorrei ora soffermarmi brevemente sulle trame che abbiamo fin qui visto, sulle tematiche, e insomma vedete che in sostanza l'antica materia epico-cavalleresca risulta profondamente rielaborata in questi poemi anche per l'inserimento di elementi magici, fantastici, miracolosi, ma l'elemento amoroso risulta assolutamente centrale in tutte le trame, più ancora delle avventure, delle storie. E quindi insomma sia l'Orlando innamorato sia l'Orlando furioso celebrano un mondo feudale, cavalleresco che non esiste più, perché siamo in un altro tipo di società, la società mercantile, che ormai ha imposto i suoi valori, non più quelli della nobiltà fine a se stessa, ma anche dell'utile. Tra l'altro è un periodo di cambiamenti anche tecnici, proprio nell'arte del combattere. Le guerre in questo periodo non si combattono più con la spada come nel Medioevo, ma con l'artiglieria. Nel 4-500 c'è proprio lo sviluppo delle armi da fuoco. E inoltre gli stati italiani stanno per perdere anche la loro autonomia in questo periodo sotto diverse guerre e invasioni. E tuttavia nelle corti, almeno nella corte estense, quei valori antichi di quell'antico mondo sono sentiti ancora vivi in queste corti signorili e in particolare, vi dicevo appunto, alla corte di Ferrara, dove i signori d'este amano circondarsi di cose belle, organizzare tornei, dare vita proprio a una corte dove le arti siano protette e celebrino anche la grandezza di chi le governa come dei veri mecenati. Per cui, appunto, nei poemi sia del Boiardo sia dell'Ariosto, l'elemento epico di origine appunto carolingia dei cicli medievali viene contaminato da quello magico, avventuroso e amoroso che era più tipico delle chanson de geste del ciclo bretone. Quindi per esempio le storie di Artù, dei cavalieri della tavola rotonda, dove troviamo mago Merlino e altri elementi magici, quindi vengono ripresi e mescolati. E insieme abbiamo anche la ripresa, cioè la ripresa, la lode dei propri mecenati, dei propri signori rinascimentali che vengono proprio celebrati nel cosiddetto motivo encomiastico, motivo di lode. e anche un altro aspetto che abbiamo rilevato che è l'umanizzazione dei paladini, di questi supereroi del passato che perdono un po' forse indignità ma acquistano in umanità, quindi presentano difetti e debolezze umane e soprattutto Orlando, l'Orlando delle chanson de geste medievali era perfetto, era privo di difetti. Ora invece addirittura si innamora di Angelica, una principessa lontana, per cui diventa addirittura folle e compie cose assurde prima poi di rinsavire. Quindi questo è un elemento moderno che umanizza di più questi eroi. E moderna è anche la forma narrativa, per cui gli episodi, vi dicevo io vi ho raccontato il filo conduttore del poema ma ci sono tantissime storie collaterali e gli episodi vengono spesso interrotti e ripresi per narrare in contemporanea più storie, narra ora un pezzo di una storia, ora un pezzo dell'altra e porta avanti più filoni, proprio più filoni narrativi. Queste interruzioni e riprese creano proprio una suspense narrativa che fa sì che il lettore continui ad essere curioso della storia, continui a nutrire interesse per la storia e inoltre permette anche di non annoiare e di riprendere le storie allungandole e approfondendo anche l'analisi psicologica proprio dei personaggi che sono appunto più approfonditi in chiave psicologica di quanto non fossero i perfetti guerrieri medievali antichi. Ecco, vi ho accennato al fatto che la forma metrica di tutti questi poemi e anche della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, di cui vi devo ancora parlare, è l'ottava, cioè la strofa di otto versi. e otto endecasillabi, i primi sei a rima alterna e gli ultimi due a rima baciata. Questa è l'ottava tipica del poema epico-cavaleresco del Rinascimento. Era già stata usata da Boccaccio in un poema, Teseida, e però è una forma tipica di questo genere che lo caratterizza particolarmente. Ancora due parole semplicemente sull'Orlando Furioso perché questo è considerato proprio il capolavoro del genere epico-cavaleresco. Appunto, avete visto dallo schema, è composto nei primi decenni del Cinquecento da Ludovico Ariosto e come abbiamo visto nella sintesi delle trame e un po' nell'analisi delle tematiche, in questo poema il mondo degli antichi paladini è sentito proprio come in parte superato nei suoi valori ed è rivissuto con distacco anche ironico e con nostalgia, come se fosse un sogno lontano, un insieme di storie che è bello riproporre anche con la fantasia mescolata d'elementi fiabeschi e fantastici. Però, ecco, queste storie dei paladini sono un pretesto per ironizzare sulle debolezze, sulle illusioni, sulle utopie, sui sogni degli uomini e quindi c'è un elemento moderno fortemente presente. Inoltre, e a tal proposito mi piace rivedere brevemente con voi il proemio, il famosissimo passo, il proemio dell'Orlando Furioso, vi dicevo, inoltre sono intrecciate tra loro diverse tematiche, anzitutto la tematica delle imprese avventurose e guerresche, ma soprattutto poi la tematica dell'amore, mista appunto la tematica dell'avventura, avventura di guerra e avventura d'amore, elementi fantastici, elementi religiosi e motivi di lode e incogno per la casa degli estensi. E vedete proprio nei primi versi c'è questo doppio chiasmo, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto, che ci specifica chiaramente, anche se in maniera un po' simbolica, come gli argomenti e le tematiche, amore, avventure, imprese guerresche, siano intrecciate tra loro nell'arco del po' l'anno. Quindi abbiamo una prima ottava con la presentazione dei temi dell'ambientazione, una seconda che ci presenta il tema della follia di Orlando, dicendo, con l'invocazione alla musa, che qua è una donna reale, l'ha amata dal poeta, dicendo che il poeta riuscirà a scrivere solo se avrà tregua dalle sue pene d'amore, che l'hanno fatto diventare quasi folle, quindi ha avuto esperienza anche lui della follia per amore come Orlando. Poi abbiamo la dedica al cardinale Ippolito I d'Este, che era il signore per cui Ariosto lavorava, e infine il motivo encomiastico che si svolge attraverso la storia, vi dicevo già, di Ruggero e Bradanante, i capostipiti della dinastia Estense. Comunque i filoni narrativi del poema sono proprio l'amore folle di Orlando per Angelica, che è qua, la guerra tra cristiani e saraceni, questa è proprio l'ambientazione, e infine l'aspetto di Lode, il motivo encomiastico che narra la storia collaterale dell'amore di Ruggero e Bradanante.